In primo luogo credo che è una buona occasione il poter celebrare questa ceremonia di premiazione perché attraverso di essa ci dà la possibilità, soprattutto attraverso i media, di trasmettere un messaggio di fratellanza al mondo intero. Il mondo ha bisogno di fraternità e ci auguriamo che questo grande dono di poter celebrare questo premio Zayet 2022 che possa veramente essere uno strumento perché ciascuno dalla base fino alle altre istanze possano prendere la propria responsabilità di promuovere il grande dono della fratellanza umana per la convivenza comune e per la pace mondiale.